Sottolinea l'importanza dello sport e quanto lo sport debba essere per tutti, quanto lo sport sia per tutti. Proprio in questa occasione proveremo tanti sport diversi, dal basket, atletica leggera, rugby, chi più ne ha più ne metta. Sono felicissimo di essere lì, sono felice di essere insieme a Bettella, un grandissimo atleta paralimpico, plurimedagliato. Non vedo l'ora di vedervi, mi raccomando partecipate in tanti. Ciao a tutti e ci vediamo l'11 settembre. Ecco il videomessaggio del campione olimpico Gianmarco Tamberi che annuncia che domani, 11 settembre, sarà a Padova in Piazza Azzurri d'Italia e poi a Piazzale Cuoco per dare il via all'iniziativa di Street Sport, lo sport nei quartieri per tutti, con prove gratuiti e di varie discipline sportive. Insieme a Tamberi, un altro plurimedagliato di Tokyo, l'atleta paralimpico di nuoto Francesco Bettella. È sempre importante parlare di sport per tutti. A ICS Veneto e con il supporto del Comune di Padova hanno fatto un grande lavoro di squadra per portare avanti questo messaggio, mettere insieme queste realtà e soprattutto per dare l'opportunità alle persone di fare sport in piazza. e si inizierà sabato 11 ma si proseguirà fino a fine novembre, per cui vi aspetto sabato. Sarà un onore per me essere insieme a Gianmarco Tamberi.